Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla pagina politica, in particolar modo ci occupiamo delle lacerazioni che si registrano in seno al Partito Democratico di Gela. Ieri dibattito infuocato durante la trasmissione Agora. Il mostro a due teste si è evoluto, adesso ne ha ben tre di teste. Il PD gelese non solo non trova l'unità, ma continua a dividersi in più rivoli, in perfetto stile vecchia democrazia cristiana, anzi, per dirla con le parole di Rocco Cerro, direttore del Corriere di Gela, ospite ieri sera di Agora, in perfetto stile con la peggiore vecchia democrazia cristiana. Unità che appunto si allontana e a certificare questa spaccatura ancora più profonda, il dibattito che è scaturito proprio dalla puntata di Agora, andata in onda ieri sera sulla nostra emittente. Perché non bastano due segretari cittadini del PD che non vogliono assolutamente fare un passo indietro per provare a trovare un minimo di coesione, ma adesso c'è anche una terza entità che si è staccata all'interno dello stesso PD già diviso. Ed è quella che fa capo all'ex deputato regionale Fabrizio Ferrandelli, che con il suo movimento, chiamato i Coraggiosi, sta facendo proseliti in tutta la Sicilia e a Gela in particolare, dove ha già raccolto l'adesione di consiglieri comunali prestigiosi del PD, come addirittura il presidente del Consiglio Alessandra Ascia o uno dei consiglieri dei democratici più votati in città come Salvatore Gallo. Ad acuire lo stato di malessere all'interno del PD gelese poi, le dichiarazioni in diretta televisiva del segretario provinciale Giuseppe Gallè, che collegato telefonicamente da Caltanissetta, dove stava svolgendosi un direttivo provinciale del PD, è andato in rotta di collisione con uno degli ospiti del nostro rotocalco settimanale, ossia il segretario cittadino bis del PD, Fabio Collorà. Come mai dal segretario provinciale non è andato a questo incontro Gallè? Perché è invitato, non si è recato a questo incontro? Perché se fosse stata un'assemblea di area, di sensibilità, io sarei andato volentieri. Ma nel manifesto di quell'assemblea era così indicato, congresso cittadino di Gela. Il congresso cittadino di Gela si è già volto. Io non vado in congressi cittadini che non sono indetti secondo i criteri che prevede lo statuto e il regolamento votato dall'assemblea provinciale. Se fosse stata un'assemblea senza riferimento al congresso ci saremmo andato a prolingiare. Peraltro mi pare che anche il presidente del partito abbia detto che si trattava soltanto di una provocazione. C'è una segreteria che è stata eletta dal basso e c'è una segreteria che è stata eletta dall'alto. Il nostro partito non prevede questo tipo di elezioni. Voi avete un segretario del 2011 e io sono il segretario del 2016. Questa è la ragione Giuseppe. Lo devi comprendere questo Giuseppe. Non è possibile. Non è possibile. Devi uscire fuori dalle regole. Franco, quante telefonate sono arrivate probabilmente anche a lui per non partecipare al secondo congresso. Lo hanno detto pubblicamente. Persino l'avvocato Bruno è stato contattato per non partecipare al secondo congresso. Non è possibile che possiamo riprendere questa chiacchierata per un altro telefono. È vergognoso. Ma di cosa parli Giuseppe? Non vuoi. Giuseppe, lascia che le questioni gelessi, ce le risolviamo i gelessi Giuseppe. Ma vedi. Il notario della Citi ha confermato, ha confermato, mi pare l'altro giorno, se ce ne fosse, se qualcuno avesse qualche dubbio, che il segretario del partito democratico di Gela e Giuseppe Peppe di Cristina, io penso che ci sia poca materia per discutere ancora. In studio a dibattere della spinosa querel tutta in salsa PD assieme allo stesso Collorà anche il presidente del contro congresso Giuseppe Ferrara ed ancora il capogruppo consigliare del PD Vincenzo Cirignotta, il dirigente regionale dei democratici Giacomo Gulizzi e l'ex segretario cittadino del PD nonché esponente locale del Movimento e Coraggiosi di Fabrizio Ferrandelli, Carlo Romano. A completare il parterre degli ospiti di Agorà, come detto, il direttore del Corriere di Gela Rocco Cerro. Non è poi mancata la pungente scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro. Chi volesse rivedere questa puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 o attraverso i nostri indirizzi social, il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà si fermerà per la pausa pasquale e riprenderà regolarmente venerdì 1 aprile in prima serata con ospiti ed argomenti che come sempre riguardano Gela ed i Gelesi. E adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. Vi riferiamo di una vicenda che si è verificata in Contrada Albani-Roccella a Gela. Un uomo ha sequestrato moglie e figli e si è barricato in casa. È stato arrestato dai carabinieri. Lo hanno arrestato in fragranza di reato per sequestro di persona aggravata. Lui è un Gelesi con precedenti di polizia per le stupefacenti. Ad ammanettarlo sono stati i carabinieri del reparto territoriale. Una notte da incubo per una giovane donna e dei suoi figli iniziata a mezzanotte circa quando il proprio marito, per motivi ancora da chiarire, la chiude in camera da letto nella loro casa coniugale di Albani-Roccella assieme ai figli minori di cui una di appena un mese. Ed ignora ogni sua richiesta di aprire la porta per permettere alla donna di allattare la neonata. La giovane moglie quindi ha mandato un messaggio alla propria madre ed alla sorella per chiedere aiuto. Le donne, con grande rapidità, poco prima dell'una, hanno allertato i carabinieri al numero di emergenza 112. I militari dell'arma sono intervenuti sul posto in pochi istanti ed immediatamente, con professionalità e freddezza, si sono accorti della gravità della situazione in quanto l'uomo, baricatosi in casa, in stato di forte alterazione, ha rifiutato di aprire la porta. I militari, a quel punto, dopo il rapido intervento dei vigili del fuoco o del distaccamento locale, con autoscala attraverso cui la donna ed i piccoli sono scesi dalla finestra del primo piano, hanno iniziato una vera e propria azione di negoziazione con l'uomo. Questo ultimo ha tentato di fuggire, rampicandosi tramite la grondaia sul balcone del piano superiore. Solo le capacità persuasive dei carabinieri sono riuscite a ricondurlo a più miti consigli, tanto da consegnarsi agli operanti all'ambulanza del 118 per l'ulteriore corso della vicenda, in quanto l'uomo ha accusato un malore. L'arrestato, condotto in caserma per le ulteriori formalità, è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto presso la casa circondariale di Gela per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lascia gli arresti domiciliari e torna in libertà l'imprenditore gelese Fabio Fasulo. I giudici del collegio penale e del tribunale hanno accolto le richieste avanzate dell'avvocato Davide Limoncello. Fasulo è attualmente sotto processo, proprio davanti al collegio penale del tribunale, dopo l'inchiesta spin-off per i magistrati della procura, sarebbe stata la mente di una serie di truffe e di acquisizioni di aziende, e successivamente ripulite dei fondi ancora in cassa. Fasulo avrà adesso l'obbligo di firma. I magistrati della procura si erano opposti alla revoca degli arresti domiciliari. E proseguiranno anche nei prossimi giorni a Gela le attività della polizia in merito all'innalzamento dei controlli sul fronte terroristico. E nelle ultime ore gli agenti hanno arrestato due persone, denunciandole tre. Saranno ripetuti nei prossimi giorni a Gela, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, gli imponenti posti di blocco finalizzati a garantire un innalzamento del livello di attenzione contro la minaccia terroristica. Sulla strada operatori specializzati impegnati con apposito armamento ed autovetture caratterizzate da nuove dotazioni di sicurezza, coordinati dal questore di Caltanissetta Bruno Megale. L'obiettivo è la prevenzione di nuovi probabili attentati, vista l'instabile situazione politica e sociale in cui versa l'Europa. Giorni addietro il servizio è stato svolto al lungomare Federico II, dove si è proceduto al controllo di circa 70 soggetti e 40 auto con collegate perquisizioni personali. In quell'occasione sono state levate 10 contestazioni al codice della strada. Sempre la polizia, nelle ultime ore, nell'ambito di un'attività anticrimine, ha arrestato due persone, ne ha denunciate tre e ne ha segnalate due alla Prefettura. Arresti domiciliari per Paolo Portelli, 44 anni, e per il crocifisso romano di 57. Il primo deve scontare sei mesi per abusivismo, ridizio e violazione dei sigilli, fatto commesso a Gela il 23 aprile del 2013. Il secondo, invece, è stato condannato a due mesi e venti giorni per evasione. L'episodio contestato è datato 21 aprile 2010. Due gialesi di 56 e 55 anni sono stati denunciati per lesioni. Entrambi si sono resi protagonisti di una lite condominiale scoppiata per futili motivi. Un 42enne è stato segnalato all'autorità giudiziaria per distruzione o deturpazione di bellezze naturali ed abusivismo e ridizio. Due pensionati di 79 e 80 anni, invece, sono stati segnalati alla Prefettura perché non hanno prodotto la certificazione medica ai fini della detenzione delle armi, nonostante fossero stati invitati a farlo. Lesioni, danneggiamento, minaccia aggravata ed approvazione indebita sono i reati contestati ad un pluripregiudicato di riesi arrestato dai carabinieri. Si tratta di Francesco Tabì, 57 anni. Numerose erano state, nel corso dell'anno, le segnalazioni da parte dei familiari dell'uomo, peraltro vigilato speciale, che denunciavano minacce di morte. Sono stati i carabinieri, considerata la pericolosità del soggetto, a chiedere al magistrato di sorveglianza di Caltanissetta la misura cautelare al fine di evitare il ripetersi dei reati. Tabì è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Trapani in attesa di scontare la pena di un anno presso la casa di lavoro di Favignana. In occasione della ricorrenza della giornata della memoria e dell'impegno dedicata a tutte le vittime delle mafie organizzata in ambito nazionale da Libera, associazione Nomi e Numeri contro le mafie, sarà consegnata lunedì 21 marzo alle 10 dal sindaco di Niscemi Francesco Larosa all'associazione Genitori di soggetti diversamente abili di cui è presidente Walter Donato Boscaglia il bene di contrada vituso confiscato alla mafia è ristrutturato in centro di accoglienza per diversamente abili. Si tratta di uno fabbricato di circa 200 metri quadrati con attivo terreno agricolo costituito da due piani e comprendendo anche una sala per la riabilitazione che su proposta del vicepresidente del Consiglio Comunale Luigi Golato approvata all'unanimità dalla Sisecittadina è intitolato alla memoria del giudice Rosario Livatino. Il fabbricato sequestrato alla mafia è stato ristrutturato ed adeguato in centro di accoglienza per diversamente abili con la somma di un milione di euro del PON Sicurezza. Anche il Comune di Gela aderirà il prossimo 2 aprile alla giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. L'amministrazione comunale patrocinerà le iniziative promosse dalle associazioni il labirinto di carta e oltre il muro. Dei lavori tematici apriranno la giornata alle 9 dal Teatro Eschilo dalle 19 invece in Corso Vittorio Emanuele partirà la notte in blu alla quale hanno aderito anche i commercianti. La chiesa madre sarà illuminata da luci blu come numerosi monumenti in tutto il mondo per sensibilizzare sulla patologia neuropsichiatrica. Lo stesso edificio di culto sarà interessato dalle 21 alle 23 da spettacoli ed eventi verticali. Anche Gela, ha detto il sindaco Domenico Messinese, vuole fare la sua parte affinché sia puntata l'attenzione su un doppio binario di interventi. La ricerca ed il miglioramento dei servizi bisogna inoltre combattere contro la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e le loro famiglie. Le iniziative della giornata gelese saranno divulgate anche grazie ad un video di comunicazione sociale voluto dall'assessore comunale Eugenio Catania. Oggi festa di San Giuseppe è una delle celebrazioni più belle e suggestive che si svolgono a Gela. Parliamo delle cene dedicate proprio a San Giuseppe e santo patrono per eccellenza della famiglia. Meravigliosi altari e banchetti votivi in suo onore. Oggi le nostre telecamere hanno seguito la cena che è stata allestita nei locali dell'Istituto Sor Teresa Valse di Macchitella. La sentiamo. Ecco, noi questa cena di San Giuseppe la vogliamo realizzare e la realizziamo intanto per alimentare la nostra collaborazione con le famiglie per far rivivere una tradizione che è molto forte qui a Gela e perché le nuove leve, gli alunni giovani possano rivivere e non far morire questa tradizione e inoltre per dare il senso della solidarietà. Infatti noi non rappresentiamo i personaggi, non facciamo rappresentare i personaggi da tre persone indigenti ma dai bambini. Tutto il ricavato andrà in favore di tante famiglie indigenti. Negli anni abbiamo raggiunto più di 100 famiglie. Abbiamo diviso tutto quello che abbiamo ricevuto. Le stesse famiglie che hanno realizzato la cena dividono alle famiglie indigenti che si fanno presenti nel nostro istituto. Chi è? Siamo tre poveri in cerca di alloggio. Non c'è posto. Chi è? Siamo tre poveri in cerca di alloggio. Non c'è alloggio. Chi è? Siamo Gesù, Giuseppe e Maria. Viva Gesù, Giuseppe e Maria! La firca CIS l'informa ai lavoratori che hanno interamente fruito dell'indenità di disoccupazione NASPI, nuova assicurazione sociale per l'impiego, che è possibile presentare la domanda per l'assegno di disoccupazione. L'assegno di disoccupazione ASDI spetta ai lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della NASPI e che si trovano ancora in stato di disoccupazione. Tra i requisiti richiesti ai lavoratori il possesso di un'attestazione ISEE pari o inferiore a 5.000 euro. Il sostegno inoltre viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui sia presente almeno un minore, oppure ai lavoratori che hanno raggiunto un'età pari o superiore a 55 anni e che non hanno maturato il requisito di pensione di vecchiaia o di pensione anticipata. Per informazioni c'è un numero telefonico 0933 92 31 65. Si è concluso il quinto ciclo di seminari di educazione alla legalità rivolto alle terze, quarte e quinte classi dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Caltanissetta. L'incontro, che si è svolto nell'aulamagna del flesso scolastico Gianni Rodari, è stato preceduto dalla messa in scena di una riduzione teatrale della violenza di Giuseppe Fava. Successivamente i giovani studenti hanno posto alcune domande e i magistrati presenti. A volte penso che forse possono fare più bambini per la legalità di quanto possiamo a volte fare noi con i nostri processi. Cioè se noi riuscissimo in questo intento difficile di inculcare il senso della legalità ai bambini, facendogli capire l'importanza dei nostri gesti, l'importanza dei gesti quotidiani, rispetto per la persona, i valori che sono i valori della nostra Costituzione, riusciremo forse un domani ad avere, forse le aule di giustizia, non dico vuote, ma insomma. A portare in scena il tesso teatrale opportunamente adattato al giovanissimo uditorio, c'erano tra gli altri Giorgio Villa e Salvatore Pecoraro. Insegnare la legalità è una parola troppo grossa, perché la legalità è praticamente il vivere nell'onestà, nel rapportarsi nella società civile, quindi insegnare ai propri figli di comportarsi bene nella vita, verso il prossimo, in modo che il prossimo si comporti bene verso di te. Queste sono cose che non è che si devono insegnare, si devono tornare a fare, rientrare nella scuola. Una volta c'era l'educazione civica come materia, io mi ricordo quando andavo alle scuole medie, poi questa materia è sparita. Oggi noi l'abbiamo reintrodotta e attenzione, questi seminari che hanno avuto un grande successo, perché ripeto, dopo tutte le scuole superiori ci siamo fatti tutte quante a tappeto le scuole medie inferiori di tutta la provincia. Il progetto ha coinvolto oltre 200 alunni. Tutto va fatto, è misurato alla loro età. Il nostro istituto comunque da anni che affronta il tema della legalità a scuola, partendo proprio dai bambini, anche dall'invanzia, perché le basi della legalità sono proprio il rispetto dell'altro e il rispetto delle regole. Quindi credo che questo non è per niente difficile poterlo insegnare ai bambini. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. Uno e Trino, guerra continua all'interno del PD gelese, dove la parte renziana vuole far valere l'elezione a segretario di Fabio Collorà in contrapposizione a Giuseppe Di Cristina, eletto dai cuperliani. E' il pezzo di apertura della prima pagina, mentre all'interno, nello Lombardo, racconta il congresso di domenica scorsa all'Eschilo. Sempre in prima pagina, i richiami di due servizi, uno di politica con il resoconto dell'ultima seduta consigliare, l'altro sull'operazione Agorà, che ha portato in carcere 12 persone per traffico di reperti archeologici. Giulio Cordaro, nella sua rubrica settimanale, politicamente scorretto, avverte sulla pericolosità di certi silenzi, mettendo a nudo la mancanza di disposte alle aspettative della gente da parte delle istituzioni e della burocrazia. All'interno del giornale, altri articoli e servizi di attualità e cultura segnaliamo, quello di Lucrezia Ferro, sulla gelese Jennifer Puzzo, che a Milano realizza il sogno di insegnare in accademia, e quello di Franco Lauria, che da psichiatra commenta le implicazioni sociali provocate dall'efferato delitto Varani, avvenuto di recente a Roma. Nello sport, i commenti di Orazio Accomandosi, i campionati di calcio, di eccellenza e di promozione. I piccoli annunci economici gratuiti in ultima pagina, infine chiudono come sempre il giornale, da oggi in edicola. Ci fermiamo, lina la regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente, organizza nell'ambito del progetto europeo Life 11 Leopoldi il seminario Agricoltura Sociale, Natura e Multifunzionalità nel Golfo di Gela, allo scopo di promuovere un'idea di utilizzo dello spazio rurale come luogo di lavoro, benessere ed inclusione sociale. L'appuntamento è previsto per domani alle 10 al Lago Biviere. E adesso vi facciamo conoscere un artigiano gelese con la passione per le sculture. Vuole donarle alle istituzioni che insistono a Gela. Realizza sculture in pietra, a basso rilievi in terracotta solo per passione. È un hobby che coltiva da sempre. Protagonista è il gelese Giuseppe Giocolano, 66 anni, ex custode del Museo Archeologico di Gela. Le sue opere attirano l'attenzione per la grande maestria che l'artigiano locale ci mette nel realizzarle. L'auspicio di Giocolano è quello di vedere le sue sculture nei luoghi istituzionali del territorio e pronto a regalarle, così come è già accaduto in precedenza. Tanto tempo fa ne ho donata una alla Procura della Repubblica. Quanto il Tribunale, la Procura si trovava ancora via Mediterraneo, via Mediterraneo. Niente, l'opera che ho donato è stata proprio data veramente con tutto il cuore perché anche per far vedere che a Gela, malgrado tutto quello che è successo, che succede, che ci sono sempre persone ben disposte e altruisti per poter fare conoscere anche un po' la sua arte. E hai mai pensato di donare una sua scultura anche al Comune di Gela? Sì, ci ho pensato, però diciamo che ancora non ho le idee molto chiare. E se dovesse donare qualche opera al Comune di Gela, quale delle opere realizzate regalerebbe? Ma veramente ce ne sono tante, però c'è il mio figlio che sta pensando a questo, a donare un'opera al Comune di Gela, un'opera gigantesca, grandissima, che già ne ha parlato con gli interessati che si occupano di queste cose qua. Quindi anche il figlio diciamo che porta la stessa vocazione del padre, di donare, di far conoscere. Com'è nata la passione? Ma la passione fin da bambino diciamo che ho sempre amato l'arte e quindi facevo olio su tela. Dopo l'olio su tela incominciai a manipolare un po' l'argilla, il DAS, il famoso DAS, poi l'argilla e vedevo che ci riuscivo molto facilmente che era una cosa dentro di me senza che nessuno mi avesse mai detto i medoti come si faceva come non si faceva e quindi sono riuscito prima a modellare poi con la pietra con il marmo incominciai a scolpire e mi veniva sempre tutto facile senza avere problemi. Festa del papà nell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela l'iniziativa è stata promossa dalle insegnanti circa 300 donni della scuola dell'infanzia tutti tra i 3 e i 5 anni hanno organizzato una mega festa ai loro papà con una partita segnata dal grande cuore dei bambini ed onorata con gioia e realtà sportiva dai loro papà una quadrangolare tra i quattro plessi dell'istituto tutti i lavori sono stati coordinati dall'insegnante Lishandra e la dirigente scolastico Viviana Aldisio si è complimentata con i genitori per la condivisione dell'iniziativa ed ha invitato tutti i papà ad essere più presenti nella vita dei loro figli a dedicargli più tempo e ora parliamo di sport calcio sarà un esodo domani per i tifosi biancazzurri il Gela infatti giocherà sul campo neutro di Noliotta di Riccata contro la Pro Favara l'attaccante Biancazzurro Salvatore Mincica è sicuro vincere domani significa mettere una serie ipoteca sulla promozione in Serie D Mincica la Serie D ha portata di mano se domani si vince con la Pro Favara è chiaro che si mette un altro tassello importante per approdare in Serie Superiore sì diciamo che domani è una partita importante come tutte le altre del resto ormai sono tutte delle finali noi cercheremo di vincere a Favara così da mettere sicuramente un gran tassello per la Serie D domani si gioca sul campo neutro dedicata è chiaro che lo stadio di Catese sarà invaso da tifosi biancazzurri tifosi biancazzurri che vi hanno sempre seguito e non hanno mai fatto mancare il loro rapporto sì sicuramente speriamo che ne vengono in tanti ma i tifosi sono stati fantastici di tutto il campionato e io li vorrei ringraziare per questo ma cosa temi della Pro Favara che è con l'acqua alla gola e dunque giocherà ora più che mai la partita della vita contro la capolista sicuramente loro si devono salvare giustamente gli serviranno punti noi andremo lì come abbiamo sempre fatto per vincere non per altro il Gela è imbattuto da ben 17 partite quasi un record ed è chiaro che bisogna continuare sicuramente dobbiamo continuare ripeto noi dobbiamo vincere per chiudere più presto il discorso della Serie D quando hai capito che il Gela poteva vincerlo questo campionato perché sostanzialmente Polo sta vincendo sicuramente non c'è stato un momento ben preciso noi siamo stati bravi ad essere continui da Mussumeli che non perdiamo per questo siamo primi Mincica domani torna la golla speriamo l'importante è vincere come sempre e nel campionato di promozione l'Atletico Gela giocherà domani al Presti contro il Ragusa i Gela Rossi che si sono allontanati dalla zona playoff cercheranno il successo dopo un periodo assai difficile saranno oltre 700 i bambini con rispettivi genitori e insegnanti che trascorreranno il primo giorno di primavera nel parco urbano di Montelungo a contatto con la natura è previsto infatti per lunedì 21 marzo dal 9.30 il settimo cross di primavera organizzato dalla associazione Green Sport preseduta da Giuseppe Veretti 12 legare in programma durante l'iniziativa il corpo forestale nazionale di Caltanissetta donerà 150 alberi la premazione esiterà intorno alle 11.30 la pagina dello spettacolo in chiusura del telegiornale oggi alle 21 al Cineteatro Antidoto è prevista la rappresentazione teatrale servizio in camera e tutta una farsa commedia brillante in due atti di Emanuele Gianmusso e sempre oggi alle 21 al Teatro Eschilo la compagnia Liotro porterà in scena le sorprese del divorzio la rassegna è promossa dall'associazione culturale Demetra preseduta da Maria Giannone abbiamo concluso anche per oggi vi ricordiamo ancora una volta che potete seguirci anche su internet all'indirizzo tg10.it noi vi auguriamo un buon fine settimana appuntamento a lunedì di S.A.B. A.V. Grazie a tutti.